buonasera visualizzazioni e bentornate in questa nuova puntata di sottobosco il caso di cui parleremo oggi mi sta molto a cuore poiché parleremo di un evento che ancora oggi viene studiato discusso e che destra decisamente tantissime controversie e discussioni in merito è una delle pagine della storia contemporanea più triste devastante e terribile che possiamo ricordare perché si parla di vite molto giovani che vengono spezzate da altrettante vite molto giovani giovani quanto disturbate e mai curate ma oggi parleremo anche di videogiochi in particolare di uno dei miei preferiti se non il mio preferito ovvero doom e come sicuramente avrete intuito della columbine high school il terreno sul quale mi muoverò in questo video sarà molto molto delicato si tratta di una vicenda che nonostante sia davvero molto poco interpretabile specialmente dal punto di vista pratico ancora oggi genera delle divisioni delle opinioni contrastanti tra le persone e le divide addirittura in fazioni ed è giusto che sappiate prima di cominciare che di queste due persone esiste addirittura un fandom vivissimo ancora oggi un fandom di persone che quasi venerano gli artefici di questa carneficina sembra terribile ma non è niente di nuovo di strano o perlomeno niente di nuovo che abbiamo mai visto su questo canale vi basta recuperare i miei video sul forum dei brutti per vedere che anche lì osano non un pazzo fuori controllo il punto è un conto essere fan di un personaggio negativo di un film lo sono anch'io un altro è fare una roba di questo tipo passando sopra il rispetto per tutte quelle persone che a causa di queste due persone qui hanno semplicemente smesso di esistere perché queste si annoiavano o meglio non è che si annoiassero e basta ma vedremo tutto quanto meglio all'interno del video intanto fermiamoci un attimo perché devo annunciarvi il merch che avete scelto e che sto realizzando ovvero quello su zodiac e tra l'altro visto che mi viene chiesto molto spesso le prime felpe di sottobosco sono ancora disponibili vi basta andare nello shop qui sotto in descrizione vi capisco ragazzi ci sono affezionato anche io perché è legato a tanti tanti bei ricordi ultima cosa instagram sono anche lì non dimenticatevi di seguirmi perché lì annuncio un sacco di roba in più c'è un sacco di materiale extra insomma anche il link di questo ce l'avete in descrizione e nel primo commento ma ora basta con le chiacchiere e andiamo a vedere più da vicino che cosa è successo veramente quel giorno alla columbine high school sigla la columbine high school è un istituto superiore geograficamente situato nei pressi di littleton nella contea di jefferson in colorado la nostra storia è collocata nel 1999 più precisamente ad aprile e storia strana questo qui è il mio anno di nascita e non so cosa sia successo quell'anno per far accadere così tante disgrazie e forse il fatto che me ne tiri dietro un bel numero anch'io insomma dovrebbe dar da pensare i primi segnali della strage potevano già essere intravisti nel 96 allorché il 15enne eric Harris mise in piedi un sito web su owl un portale che in quegli anni veniva usato da alcune persone il ragazzo caricava roba su quel sito principalmente perché era quello che giorni nostri chiameremmo un modder insomma faceva delle custom map di doom di quake era un fan di questi giochi e aveva imparato a modificarli sullo stesso sito caricava anche quelli che oggi chiameremo essere dei meme certo molto ancestrali molto più raffazzonati che riguardavano i suoi genitori i suoi amici la scuola e alcuni suoi brevi pensieri verso la fine di quell'anno però iniziano ad apparire contenuti abbastanza inusuali anche per quel sito lì iniziarono a venire caricati atti di vandalismo commessi dallo stesso Harris come uso di petardi e fuochi d'artificio illegali in spazi non consoni e danni a proprietà sia pubbliche che private del vicinato in tutto questo gruppo di vandali spiccava un altro ragazzo che insieme ad Harris passerà alla storia come uno dei più giovani criminali mai esistiti stiamo parlando di Dylan Klebold soprannominato vodka in seguito al fatto che prediligesse molto più questo alcolico e che in realtà c'è anche una storia che gira del fatto che nonostante la giovane età fosse riuscito a scolarsi un'intera bottiglia tutta in un fiato il soprannome di eric Harris invece risultò essere reb ispirato alla mascotte della columbine high school ovvero un ribelle più o meno stilizzato il sito passò abbastanza inosservato perché vuoi o non vuoi ci troviamo innanzitutto nel 96 vuoi la poca diffusione di internet vuoi che nessuno tranne la loro cerchia o qualcuno che comunque veniva ficcato in questo sito dalla loro cerchia lo guardava dal 97 in poi invece la rabbia di Harris cominciò sempre di più a crescere e in poco tempo su quel sito fu possibile trovare addirittura delle guide illustrate su come creare degli esplosivi in casa in particolare dei tubi bomba artigianali nella notte del 30 gennaio invece eric e Dylan furono pescati per aver rubato dei pezzi di computer da un furgone a causa della giovane età invece di venire incarcerati o comunque processati furono inseriti in un programma di rieducazione quindi tutta una serie di lavori socialmente utili atti a fargli capire la gravità del danno che avevano fatto atti a fargli avere un comportamento migliore Harris scrisse quindi una lettera al proprietario del furgone cercando di farsi notare per delle scuse diverse dalle solite scuse che ti fanno scrivere servizi sociali perché era una lettera ricchissima di empatia salvo poi tornare a casa e vantarsi sul suo sito web del fatto che fosse bravissimo a fingerla e a vantarsi anche di quanto fosse bravo nei furti oltre ovviamente ad esplicitare un grandissimo disprezzo e schifo per la vittima che in realtà non aveva fatto niente di male il ragazzo fu anche sottoposto a diversi farmaci che secondo tanti aumentarono questa sua rabbia questo suo disprezzo nei confronti del mondo e aiutarono anche a generare le azioni per cui ad oggi è ricordato dopo un'udienza in tribunale tuttavia il sito tornò a svolgere la funzione principale quindi tutta roba tipo meme pensieri fu eliminata e rimase soltanto la parte in cui modificava giochi tipo doom probabilmente però scomparve più in seguito al fatto che la madre di un suo amico aveva sgamato il sito e aveva trovato al suo interno delle minacce alla propria famiglia harris quindi imperterrito continua a scrivere i propri pensieri in dei diari dei fogli dei quaderni aggiornando continuamente la sua collezione di istruzioni per ordigni oltre alla sua collezione di ordigni stessi e all'inizio del febbraio 1999 gli assistenti sociali dichiarano i ragazzi redenti tranquilli e gli consentirono di tornare alla normalità in tutto questo è molto importante ricordare che nonostante harris fosse riuscito a mantenere una buona immagine di sé almeno dall'esterno per dylan la cosa non era la stessa perché lui presentava tantissimi difetti quali voti in caduta libera a scuola ritardi agli appuntamenti con gli assistenti sociali un col test positivo insomma non il migliore dei quadri però anche lui teneva un diario in cui a differenza di harris che registrava più la rabbia che provava in dylan poteva essere trovata una componente molto più depressiva molto più incline alla depressione e un grandissimo senso di inferiorità specialmente verso le ragazze e i suoi coetanei entrambi i ragazzi infatti erano delle pesanti vittime di bullismo da parte di tutta la scuola e come vedremo dopo furono dichiarati come gli sfigati tra gli sfigati proprio nella scuola tutti quanti si facevano beffe di loro anche soltanto come passavano in giro ma torniamo a noi perché negli ultimi mesi del 1999 i due ragazzi cominciarono a registrare tramite alcuni video alcune videocassette il proprio arsenale le proprie intenzioni i propri piani e i propri pensieri ovviamente tutte queste videocassette furono trovate dopo i fatti perché erano state filmate e conservate in gran segreto gran parte comunque furono registrate nella villetta degli Harris più precisamente all'interno del seminterrato giustificando anche il nome che da quel giorno in poi ebbero ovvero i basement tapes oltre a mostrare munizioni ed esplosivi che avevano acquisito illegalmente illustravano per filo e per segno come li stessero facendo fessi tutti quanti tra genitori amici conoscenti oltre che autorità nascondendo in ogni dove arsenali di ogni tipo in tutto questo si avvicinava sempre di più il loro giorno del giudizio e mano a mano nei video si interrogavano sempre di più su chi avrebbe registrato un film sulla loro impresa dando anche una vera e propria lista di chi secondo loro sarebbe stato degno e chi no in un video girato mezz'ora prima dei fatti invece si scusavano con le famiglie delle potenziali vittime e si vantavano di come sarebbero stati ricordati dopo la loro impresa prima delle luci dell'alba Harris registrò anche da solo una videocassetta e la lasciò in bella vista sul tavolo della cucina di casa sua prima di andarsene all'interno della cassetta venivano dette frasi come questo qui sarà un giorno che tutti quanti ricorderanno per sempre e roba di questo tipo ma adesso arriviamo all'attimo in cui tutto precipitò il 10 aprile del 1999 i due ragazzi arrivarono alle 11 10 di fronte alla Columbine High School in automobili separate entrambi in posti non assegnati a loro da queste posizioni strategiche i due potevano controllare interamente l'edificio poco prima di arrivare lì però avevano posto una bomba in un campo là vicino in modo che una volta esplosa tutti quanti quelli che erano gli addetti alla sicurezza e alle situazioni d'emergenza sarebbero andati lì a controllare lasciandogli piazza pulita e quest'ultima esplose soltanto parzialmente generando anche un piccolo incendio i ragazzi si incontrarono vicino alla macchina di Harris e armarono due bombe al propano da 9 kg l'una poco prima dell'arrivo degli studenti i due entrarono nella mensa e piazzarono le borse contenenti gli ordigni che si sarebbero dovuti attivare intorno alle 11 e 17 in quelle borse c'era abbastanza materiale per far saltare completamente in aria la mensa e distruggere anche la biblioteca lì vicino una volta piazzate tornarono con calma alle loro auto progettando di impallinare chiunque sarebbe uscito dalle uscite principali ovviamente in preda al panico e irrazionalmente una volta visto quello spettacolo all'interno della mensa tornando alle auto tuttavia incontrarono un loro amico e compagno di classe ovvero brooks brown che li sgridò per aver saltato il compito in classe e di tutta risposta Harris gli rispose che gli stava simpatico e di tornare a casa nel piano però ci fu un intoppo perché nonostante tutta la preparazione i due compresero che le bombe non erano saltate quindi si incontrarono nuovamente all'auto di Harris per armarsi un'altra volta e tornare alla mensa e alle 11 e 19 successe il peggio Harris urlò all'impazzata e in quel momento tutte e due strassero dei pompa sparando a zero su tutti i compagni di scuola intanto dentro il campus l'insegnante patty nelson vedendo cosa stava succedendo camminò verso l'entrata ovest accompagnata dallo studente brian anderson per dire ai suoi studenti di smetterla perché pensava che fosse uno dei soliti progetti scolastici perché due appunto tenevano molto spesso le eredini di alcuni progetti di cinematografia a scuola e pensava anche che le armi che avevano in mano fossero finte ma appena anderson aprì la porta tutti e due sparano alla finestra ferendo sia lui che l'insegnante reagendo per la paura il ragazzo si alzò corse verso il corridoio arrivò alla biblioteca e disse a tutti quanti di nascondersi sotto le scrivanie oltre che di rimanere in silenzio poi chiamò il 911 e successivamente si nascose dietro la cattedra della biblioteca i due proseguirono per il corridoio nord sparando a chiunque vedessero e lanciando tubi bomba fra l'inizio della chiamata al 911 e l'ingresso dei due ragazzi in biblioteca passarono 4 minuti e 10 secondi alle 11 e 29 i due entrarono all'interno della biblioteca dove 52 studenti tre addette alla biblioteca e l'insegnante si stavano nascondendo sotto i tavoli e dietro alcune stanzette circostanti appena entrato harris sparò un espositore di vetro che si trovava dall'altra parte della sala ferendo lo studente evan todd che si stava nascondendo in quel luogo pensate che harris gridò così forte a tutti quanti di alzarsi che si senti addirittura all'interno della telefonata al 911 harris urlò che tutti gli studenti con il cappello bianco ovvero quelli facenti parte della comunità sportiva della scuola ovvero quella che più bullizzava i due ragazzi insomma dovevano alzarsi e che sarebbero stati presi da loro due il fatto è che nessuno si alzò e quindi disse scherzando sì tanto sparerò comunque fecero fuori un loro compagno di classe che non aveva ancora fatto in tempo a nascondersi per poi continuare la carneficina dopo aver abbandonato la biblioteca i due continuarono a girovagare lanciando un tubo bombo in uno stanzino per poi scappare dopo aver assodato che le bombe al propano non sarebbero esplose cominciarono a dirigersi all'interno del corridoio alle cui pareti erano poste tutte quante le porte delle aule che in america hanno degli oculi delle finestrelle da cui si può vedere dall'esterno e i due piano piano camminando all'interno del corridoio cominciarono a guardare all'interno degli oculi tuttavia non aprirono alcuna porta e tornarono in biblioteca una volta dentro provarono a sparare i poliziotti fuori dalle finestre ma non ci riuscirono e a questo punto si spostarono verso un tavolo dove giacevano due compagni di classe e si tolsero la vita alle 16 di quello stesso giorno lo sceriffo fece una stima iniziale di 25 decessi 12 in più di quelli poi accertati in seguito perché si trattava di feriti molto gravi e alle 16 e 30 la scuola fu dichiarata nuovamente agibile e sicura salvo poi alle 17 e 30 trovare oggetti inesplosi sul tetto e nel parcheggio si dice che ci fossero anche altre persone armate di cui tuttavia ancora oggi si specula e non si sa più di tanto c'è chi dice che sia una c'è chi dice che siano addirittura tre ma sta di fatto che alle 22 45 di quella sera un'auto parcheggiata esplose mentre un poliziotto cercava di disnescare un ordigno che è rimasto lì dentro e qui finisce la nostra storia o perlomeno finisce quella che c'era da raccontare adesso vediamo un attimo di capirci un po meglio qualcosa da quando è avvenuto il massacro alla columbine si è prestata sempre di più maggiore attenzione tra quella che è la connessione tra manifestazioni di violenza delle scuole e bullismo entrambi i fotori di questo macello vennero dichiarati come persone molto dotate molto intelligenti probabilmente bullizzate tantissimo per quattro anni e dico probabilmente soltanto perché è quello che dicono le fonti ufficiali si tratta di una certezza non c'è altro da dire sono stati bullizzati tantissimo per quattro anni anche di più e come vi ho detto prima tanti studenti hanno descritto i due come gli sfigati tra gli sfigati o perlomeno li hanno descritti secondo quella che era la reputazione che un po si erano fatti c'è da dire un po gli era stata appioppata in quegli anni chi giocava ai videogiochi era uno sfigato chi ascoltava metal era veramente un emarginato perché tutti quanti ascoltavano altro e nonostante oggi ci sia ancora un minimo questa cosa la maggior parte delle persone ormai lo ascoltano ormai ci giocano i videogiochi e sono diventate cose molto di massa però in quegli anni questa vicenda non poté certo fare in modo che tantissimi gruppi in particolare quelli un po più cristiani religiosi ma particolarmente quelli cristiani rivolgessero l'attenzione ed essero la colpa ai videogiochi che questi due ragazzi giocavano ai gruppi musicali specialmente metal che ascoltavano e i film che guardavano in particolare viene fatta un'associazione tra il film matrix alcune scene e alcuni estratti del video di sorveglianza che è una cosa completamente da pazzi e la colpa si cercò di farla ricadere addirittura su Marilyn Manson e altri gruppi rock metal che in quegli anni stavano spopolando e che ancora oggi sono ascoltati da tutti poi ovvio poco importò che Manson cancellò tre date di concerti importanti per dichiarare solidarietà per la vicenda no quello non importò quasi a nessuno e addirittura fu chiesto al cantante in un'intervista che cosa avrebbe fatto ai due ragazzi se li fosse trovati di fronte un po come viene fatto nelle nostre televisioni ai nostri anche perché no account social più beceri si chiede sempre a che cosa gli avresti fatto a questo qua che cosa avresti fatto e Manson di tutta risposta in modo molto tranquillo disse guarda io semplicemente li avrei presi e avrei ascoltato se possibile quello che avevano da dire cosa che a quanto pare nessuno aveva fatto ma una sorta simile toccò un altro dei miei gruppi preferiti ovvero i Rammstein gruppo industrial metal ascoltatissimo dei due ragazzi e addirittura i Rammstein subirono delle forze critiche soprattutto da gruppi cristiani e in seguito a questo il cantante Till Lindman dichiarò che i membri dei Rammstein esprimono le loro condoglianze a tutti coloro che sono stati colpiti dai tragici eventi di Denver e soprattutto importante ricordare che i Rammstein nonostante vabbè alcuni testi siano un po forti però comunque si tratta di canzoni si tratta di intrattenimento si tratta di arte ma comunque i loro testi non hanno delle convinzioni politiche o comunque qualcosa che oltre un certo tot avrebbero potuto influenzare una roba di questo tipo e soprattutto ci tende a ricordare che anche i Rammstein hanno figli e che cercano in ogni modo di dargli esempi positivi ma come vi ho detto all'inizio in questa situazione fu infilato persino il mio videogioco preferito Doom appunto perché come detto prima Harris era un creatore di livelli extra di Doom mettiamo in chiaro il fatto però che chiunque può creare dei livelli extra di un gioco basta saperlo fare e non ci vuole nemmeno così tanto quindi non è che fosse una persona scelta dall'equip no chiunque che ha una connessione internet può prendere e modificare i livelli di più o meno qualsivoglia gioco il fatto però è che Harris aveva una propria ossessione sia per quelle cose abbiamo detto prima sia per la saga di Doom ma questo perché perché Doom così colà no perché aveva un'ossessione per praticamente tutto possedeva alcuni dei romanzi di Doom era appassionato della serie e aveva progettato i livelli di Doom con i soprannomi Reb RebDoomaker e RebDoomer e in una videocassetta registrata poco prima nel fatto disse anche che quello che poi passò alla storia come fatto della Columbine School sarebbe stato molto simile a una mappa di Doom che aveva creato dalla planimetria della scuola quindi capite che c'è qualcosa oltre il videogioco ma questo qui è stato uno degli eventi più scatenanti dell'odio che oggi viene riversato anche da più persone di quello che si pensa nei confronti dei videogiochi che vengono visti ancora oggi da tante persone come un qualcosa che può spingere alla follia i ragazzi ma sapete già che cosa ne penso ho già fatto un video su Man Hunt citando anche questa vicenda in cui vi spiego per filo e per segno che cosa ne penso e lo trovate qui sotto in descrizione oltre che nelle schede ma i problemi di questi due tizi erano ben altri e se si sono così tanto ossessionati con Doom specialmente Harris invece di prendersela con il videogioco non sarebbe meglio chiedersi come mai si sono ossessionati così tanto capire da dove è andata questa ossessione troppo difficile non lo so ma stessa roba dell'incolpare il metal stessa roba dell'incolpare qualsiasi cosa che sia un capo espiatorio abbastanza degno per far passare l'attenzione dal ah forse ci sono dei problemi più grandi da risolvere che potrebbero aiutare tante persone no è più facile dire ah è colpa dei videogiochi è colpa di questo colpa di quest'altro poi il fatto che ci siano persone che fanno anche di peggio che ascoltano reggaeton che ascoltano altri generi musicali che come detto non c'entrano assolutamente niente che magari non giocano i videogiochi che magari non hanno mai preso uno in mano no quello non ci importa videogiochi cattivo brutto e se volete le mie considerazioni personalmente il fatto che siano nati buoni o in generale che le persone nascano buone che la società le incattivisca si può essere vero ma fino a un certo punto sarà anche una mia filosofia di vita però per quella che la mia esperienza personale non ho mai visto delle persone andare oltre un tot livello di bontà o di cattiveria ma stessa cosa io io non ci riesco ad andare oltre un tot livello di cattiveria o di bontà come penso nessuno penso anche che questi ragazzi fossero seriamente molto disturbati a prescindere da tutte le cose che gli piacevano o non gli piacevano e che dentro di loro a prescindere da tutti i problemi non fossero le più brave persone di questo mondo fin qua ci siamo perfetto e poco mi importa che ad oggi esistano ancora degli scellerati che per scherzo ma molto spesso no osandano le loro gesta tra vari forum gruppi facebook privati gruppi telegram insomma la feccia però è opinione abbastanza condivisa il fatto che questo tipo di cose potessero essere evitate adesso è facile anche dare la colpa ai genitori ma basterebbe ascoltare le interviste che vengono fatte per esempio la mamma di dylan per capire che in realtà roba di questo tipo può farla anche gente che è una famiglia perfetta che una situazione abbastanza perfetta poi ci sono problemi esterni che molto spesso una persona specialmente in quell'età non dice non lo dice perché si vergogna non lo dice specialmente perché la personalità di dylan in particolare era una personalità molto perfezionista molto dedita a risolversi le cose da sola è una personalità di questo tipo mi appartiene tantissimo perché le ragioni di questa vicenda sono molto molto più pesanti di un semplice giocava doom a gli piaceva questo è l'unica cosa che penso io di poter fare a questo video per renderlo un po più mio per renderlo un po più personale perché come ho già detto una vicenda che mi tocca da vicino e invece di dare la colpa a tutto questo faccio una cosa vi faccio avere accesso a delle mie cose molto personali in modo che capiate determinate cose quindi adesso vi lascerò l'accesso al mio computer personale ovvero questo qui che c'è dietro di me come potete vedere qui si trova una custom mod di doom 2 a casami in abruzzo sono pieno zeppo di videogiochi di questo tipo e ci gioco da quando ho un anno circa mia mamma contate che mi muoveva le dita sulla tastiera del pc per giocare a un gioco bomberman di cui vi ho già parlato derivato da doom nella mia home di youtube invece potete notare che uno dei miei gruppi preferiti è proprio quello dei rammstein dei quali mi devo anche ricordare di prendere una maglia che sono anni che dico la prendo invece no e anche su youtube doom come se piovesse tutti i video guardati e riguardati fino alla nausea e andiamo quindi nel mio armadio perché ho preso per l'occasione scusate se sono poche ma in realtà ne ho molte di più sia qui che giù però quelle che ho qua la maggior parte sono a lavare perché me le metto abbastanza quotidianamente allora questa qui è una maglia di uno dei miei gruppi preferiti ovvero i systemodown che ascolto più per nostalgia più che altro perché è un gruppo che insomma ha fatto il tempo che ha fatto specialmente con l'anno nuovo guardate quanto è consumato il collo della maglia questa maglia ce l'ho dal 2014 ed è la mia prima maglia di un gruppo che mi è stato venduta da un tizio in un negozio di bologna che mi aveva visto con una playlist su un telefono di quelli più vecchi mi ha detto guarda questa maglia costa 40 euro se vuoi te la do a 7 euro però è una xxl e da allora questa maglia me la metto ancora oggi quest'altra l'ho rubata per sbaglio a chad però nightmare on elm street che è un film a mio parere abbastanza pesante poi ho maglie delle zeppeli maglie degli slipknot maglie di tantissimi gruppi questa qui è una special edition 10 nm l'ho presa quest'anno di shining addirittura sulle mani c'è scritto shining quindi la mia playlist di spotify che avete in descrizione parla abbastanza chiaro non devo aggiungere altro ma anche se io facessi qualcosa di violento non sarebbe imputabile a nulla di questo perché ci sarebbero dei problemi molto più grossi alla radice non sarebbe colpa di tutte queste cose sarebbe colpa del fatto che non sto bene io eppure basterebbe fare una semplice relazione tra le persone che usufruiscono di questo tipo di intrattenimento e le persone che effettivamente fanno qualcosa di violento è una percentuale bassissima ma proprio insignificante quindi ancora oggi non capisco come uno possa dettare legge per tutti quanti e infatti non lo fa è nella testa di alcune persone che lo fa poi vabbè lo sapete meglio di me che i metallari specie dopo una certa età non sono violenti anzi è tutta quanta una facciata perché se uno è un duro veramente se uno è uno tosto così colà non ha bisogno di dirtelo col vestiario è uno stile ci sta può piacere può non piacere ma la maggior parte so brava gente la cosa più grave che avranno fatto quale sarà stata per una birra a 15 anni serio ma liquidare tutto questo minestrone di patologie mentali di problemi di bullismo con è colpa di questo e di quello non fa altro che sminuire la gravità di tutto e continuando anche io oggi a dovermi confrontare con problemi simili lo trovo parecchio ingiusto per chi non lo sapesse io da piccolo sono stato chiuso in neuropsichiatria ancora oggi mi porto degli strascichi specialmente dal punto di vista del linguaggio dell'emotività di tutta questa serie di cose della percezione di quello che è l'esterno molto distorta e se aggiungete questo al fatto che ho vissuto un'adolescenza un'infanzia non difficili molto di più veramente cruente ho vissuto per un periodo in povertà sono scappato di casa diverse volte insomma capite che è facile dall'esterno dire ah sì questa cosa la sono tutti quanti malati no però il fatto è sono veramente ricollegabile così tanto a quei due penso che forse tutti quanti noi lo siamo più di quanto vogliamo raccontarci tutti quanti che piaccia o meno abbiamo dei problemi mentali penso che questo sia assodato ad oggi penso che tutti quanti possiamo dire che la persona che sta benissimo mentalmente non esiste poi ovviamente c'è chi come me ha avuto cose più gravi c'è chi ha avuto cose un po più sceme però non sono da sottovalutare però dare tutta la colpa ai videogiochi alla musica io non lo so non è che fa sentire le persone più tranquille sul punto di vista del poter controllare le cose io la penso così non è facile accettare che alcuni di noi siano così alcuni di noi abbiano un cammino più tortuoso e alcuni di noi a un certo punto sbottino e facciano questo tipo di cose che ripeto sono sbagliate non sto assolutamente giustificando quello che hanno fatto queste due persone sia mai e penso averlo fatto capire a chiare lettere all'interno del video però c'è anche da ricordare il fatto che esiste in tutto questo studio che viene fatto ancora un giornalista di angherie che due ragazzi dovevano sopportare tutti i giorni e dobbiamo mettere anche questo sul piatto dobbiamo mettere anche questo che le persone sono semplicemente il risultato delle cose che vivono delle cose che fanno e delle cose che vengono fatte questa è una cosa che dico molto spesso specialmente ai miei amici ma ricordiamo anche un fatto prima di chiudere com'è possibile che allora come oggi dei ragazzini di 17 18 anni 18 anni dai anche se sotto banco l'età si abbassa insomma com'è possibile che in america le armi siano vendibili anche nei supermercati ovviamente adesso non esposte però le vendono lo stesso non è questo un problema che ha aumentato la probabilità che questo evento si verificasse secondo me sì perché le persone sono così poco sensibilizzate nei problemi mentali perché e quindi la colpa è di chi li ha bullizzati questi ragazzi no perché cercare la colpa in tutto questo è stupido perché la colpa è stata dei due ragazzi non c'è che dire ma la cosa più divertente è che se hai 18 anni ad oggi in america ti puoi comprare un fucile a canne mozze tranquillamente vai lì te lo danno senza dire niente ciao e certo se non avessero potuto acquistarle sarebbe stato tutto molto più semplice perché portarsi appresso dei pesi a 9 chili l'uno molto più difficile però mi rendo anche conto che fare delle supposizioni su questa storia sia utile fino a un certo punto perché questo resta e resterà comunque come tanti altri non solo miei ma anche di altri semplicemente un video di youtube di un tizio che parla di una cosa successa non a lui quindi è con questa nota di amarezza che questa volta vi lascio e vi invito a riflettere su un paio di cosette che abbiamo discusso oggi la puntata di sotto bosco finisce qui io vi ringrazio per aver seguito anche questa e noi ci vediamo alla prossima